ben trovati a questa nuova puntata di working time in studio con me marisa rodriguez titolare di wargate italia benvenuta marisa ben trovata maria pia ben trovati a tutti voi è un graditissimo ospite che inquadro si tratta del dottor robertino perfetti benvenuto grazie salve a tutti lascio a te marisa la parola per presentarci il tuo ospite prego sono felicissima di avere oggi con noi a un esperto di sostenibilità e ambiente come robertino perfetti con il quale collaboro già da tempo anche in altri scenari che ci hanno visto quando la nostra regione marche sicuramente era un peletto più industriale che lo è in questo momento lui è un membro importantissimo del nostro team esperto in valutazione dei rischi ambientali e ovviamente in questa parola che ci spiegherà dopo successivamente che cosa vuol dire la sostenibilità ambientale voglio dire che ha una carriera completamente dedicata alla promozione della sostenibilità per quello ce lo spiegherà bene che cosa è questa sostenibilità e il suo interesse si concentra attualmente nella misurazione e rendicontazione degli impianti ambientali cosa che in questo momento è di piena attualità e lavora attivamente nella costruzione dei bilanci di sostenibilità integrati e nel ambito dei principi ovviamente della stessa dimostrando un impegno costante verso pratiche aziendali responsabili e sostenibili vediamo cosa no significa applicare il tema della sostenibilità ambientale a quello della della sicurezza del lavoro come si coniugano questi due settori queste due tematiche posto che insomma in qualsiasi grado il livello di sviluppo oggi istituzionale economico sociale la sostenibilità no è al centro del dibattito ecco in questo caso noi parliamo con wargate italia ente accreditato per la sicurezza sul lavoro come si coniuga la sicurezza sul lavoro con il tema della sostenibilità ambientale bene è importantissimo tenerlo in considerazione prima di tutto il testo unico di legge il decreto legislativo tanto uno già comincia a mettere qualche cuneo qualche fieca in materia ambientale quindi ricorda la legge haciende la responsabilità che ha in merito al territorio che sta utilizzando e le ricorda fortemente non soltanto che ha fatto una serie di oblighi rispetto a la salvaguarda dell'ambiente però anche perché non dirlo che una buona salute laborale passa anche per la respirazione di un'area buona non inquinata e non soltanto non inquinata bisogna tenere in considerazione che certi presenze incòmode o escomode talvolta ci obbligano a fare una valutazione dell'area che respirano i nostri laboratori come per essere la presenza di amianto questo è un piccolo esempio che voglio anticipare perché quello che voglio già da qui da questo programma la prossima volta ci devi continuare a spiegare infatti e vedremo insieme tutti quegli aspetti che toccano sicurezza sui luci di lavoro e ambiente quindi oggi semplicemente un brevissimo esempio vi voglio dare perché non voglio togliere ulteriore tempo al nostro protagonista di oggi assolutamente poi ecco abbiamo spoilerato continueremo a trattare questo argomento e quindi all'esperto chiediamo cosa si intende per sostenibilità ambientale come viene interpretata oggi allora tanto grazie per tutto grazie dell'invito però quello che vorrei puntalizzare è che proprio il tema sostenibilità oggi è un tema comunque sia importante ma sostanzialmente è sulla bocca di tutti noi quindi anche quando ci muoviamo cerchiamo prodotti sostenibili azioni sostenibili quindi questo parlare di sostenibilità ha in qualche modo non dico svilito ma creato un problema di interpretazione del termine quindi quando parliamo di sostenibilità correttamente la domanda è stata sostenibilità ambientale che cos'è ma quando parliamo di sostenibilità dobbiamo pensare a questo diciamo io faccio sempre questa metafora della serie a tre piedi in cui abbiamo sia il tema ambientale l'attenzione al sociale l'attenzione al tema della governance e quindi l'attenzione al territorio attenzione anche all'interno dell'ambiente lavoro quindi il rapporto con i dipendenti e alcune scelte fanno sì che iniziamo a discutere dei cosiddetti criteri sociali ma ritornando proprio puntualmente alla domanda che mi avete posto per sostenibilità ambientale vuol dire iniziare a costruire un percorso nell'azienda in cui si va a valutare le materie prime che si stanno utilizzando la riduzione dei consumi durante tutto il processo produttivo e quindi qualificare il nostro prodotto finale oltre al prodotto quindi monitorare tutti i processi che sono alla base della costruzione di quel progetto e quel prodotto quindi le emissioni in atmosfera quanta energia sto consumando quant'acqua sto consumando e tutto questo una volta misurato porta a monitorare l'aspetto della sostenibilità e quindi dare numericamente forza a quelle che sono le azioni di investimento che le aziende fanno oggi un paio di jeans fabbricati nuovi, ex nuovi nella fabbricazione soltanto di un paio di jeans se vogliono litri e litri e litri di acqua uno dei principali problemi che avremo non tra tanto, tra poco ce lo stiamo già avendo per esempio in paesi come la di Spagna che è il secondo paese più montuoso dell'Europa dopo la Svizzera perché non so se ci avete presente che siamo in una mesetta, qui abbiamo già cominciato a avere problemi di scarsità dell'acqua cosa che non abbiamo avuto fino a questo periodo e quindi dovremo fare conti con il risparmio dell'acqua e qui c'è l'ambiente, qui c'è questa sostenibilità passa anche per una buona educazione, per una formazione alle persone, all'ambiente, a questo momento sociale quindi al consumatore, come dice Robertino infatti una attenzione a tutto il processo, già dalle materie prime da dove mi fornisco io queste materie prime? Non c'è stato questa cosa di senza olio di palma ma non ci ha spiegato ma perché della sera alla mattina biscotti senza olio di palma, senza questo, senza l'altro che vuol dire? Tutti ci siamo accelerati a andare a vedere perché stavano scomparendo infatti queste piante perché stiamo con il consumo tante volte modificando anche l'ecosistema quindi attenzione, attenzione perché se c'è una materia che obbliga a fare formazione la sicurezza sui luoghi di lavoro e anche qui possiamo approfittare per cominciare a cambiare le condotte delle persone in generale quindi questo è importantissimo, per puntare su questa reputazione di impresa una buona azienda, una impresa che si preoccupa non soltanto dal rispetto della legge bensì del territorio, il territorio passa per la sostenibilità ambientale E questa ultima slide che ci hai fornito sulla sostenibilità è quello un po' di cui parlavi riassume proprio il processo produttivo che deve essere guardare alla sostenibilità dal punto di vista economico ambientale e sociale, come abbiamo anticipato torneremo sicuramente su questo argomento con Worldgate Italia rispetto a quanto diceva Marisa, appunto Dottor Perfetti c'è qualcosa che vuole aggiungere rispetto a quanto detto adesso, rispetto ai processi produttivi? Allora, io aggiungerei una cosa Marisa cioè il nostro ruolo, il ruolo del consumatore e di coloro che stanno lavorando in azienda una volta che è chiarito questa necessità che le aziende devono comunque sia questo percorso che devono intraprendere grazie anche al gruppo di lavoro che si è costituito e che si è costruito intorno a questa tematica il ruolo di corresponsabilità da parte del consumatore che inizia a scegliere e incomincia a voler sapere come è stato prodotto quell'oggetto e sostanzialmente chi l'ha prodotto ed è a questo punto che scatta il meccanismo della riconoscibilità dell'azienda in termini di reputabilità d'impresa e questo credo che è il passaggio che stiamo vivendo oggi è vero che i ragazzi, le persone più giovani sono decisamente più attente delle persone adesso qualcuno parla di boomer ma senza andarli a classificare anche perché poi chi parla farebbe parte del boomer, non è bello ma al di là di questo è proprio qui che dobbiamo stimolare il consumatore perché io credo che abbia comunque sia una reale forza per proporre un cambiamento ora agenda 2030, avete fatto vedere delle slide che parla di goals, di come raggiungere gli obiettivi ma se poi non ci siamo noi dall'altra parte a stimolare quello che è il mercato senza necessariamente stimolare l'acquisto attenzione, questo sia chiaro, il concetto di sostenibilità passa attraverso anche la riduzione dello sfruttamento del suolo, delle materie prime e quant'altro quindi chiaramente non è che stiamo qui a dire ah comprate di più ma mi raccomando compratelo la roba che deve essere bella di qualità, di salute no, cerchiamo di ridurre i nostri consumi a questo punto riusciamo a ridurre anche tutto quello che è il tema del tema dei rifiuti in quanto tale ma attenzione a quello che stiamo acquistando perché siamo noi a poter in qualche modo stimolare un cambiamento verso quello che è il tema di una sostenibilità integrata assolutamente, è un discorso molto ampio che torneremo ad affrontare come avete avuto modo di vedere attraverso l'intervista ai nostri ospiti io ricordo sempre i contatti di Workgate Italia srl, il numero di telefono 071 20 72 671 l'email segreteria chiocciola workgateitalia.it anche un bel sito da cui prendere spunto rispetto agli argomenti che trattiamo in trasmissione www.workgateitalia.com non mi resta che salutare i miei ospiti grazie Marisa Rodriguez titolare di Workgate Italia grazie per essere stata con noi grazie a te Marie un abbraccio a tutti quanti per l'ascolto e ringrazio anche il dottor Robertino Perfetti che avremo ospite anche nella prossima puntata per continuare a parlare di sostenibilità grazie mille grazie a voi e a voi do appuntamento alla prossima puntata di Working Time arrivederci